E ora il calciomercato con le news sul Pescara, maxi trattativa che è andata a buon fine con la Ternana, trovato l'intesa per il passaggio agli Umbri di Federick Sorensen nell'arrivo in Bianca Azzurro a titolo definitivo di Paolo Frascatore, 29enne laterale sinistro che giocò nel Delfino per sei mesi nel 2013-14 e in prestito secco arriva anche il 32enne attaccante Guido Marilungo, ex Virtus Lanciano. Intanto è imminente la cessione a titolo definitivo di Vincenzo Fiorillo alla Salernitana, contratto di 4 anni. Per la sua successione il Pescara pensa a Matteo Pisseri, 29 anni, neopromosso in Serie B con l'Alessandria, Riccardo Gagno, 24enne del Modena e Mattia Del Favero, 23 anni, di proprietà della Juventus, ricorderete, reduce da un'annata sfortunata con il Delfino per l'infortunio che rimedio nella gara di Coppa Italia contro il notaresco. Intanto poco fa la società con una nota ha ufficializzato una notizia che già era nell'area da giorni. Eugenio Dursi, di proprietà del Napoli, passa in prestito al Pescara, classe 95, esterno offensivo, particolarmente atteso da Auteri che l'ha già allenato nel Bari.